ciao lucia allora mi avete chiesto di vedere come si fanno gli scialli granny e io ho qua due alternative di scialle granny allora la prima che vi faccio vedere è l'alternativa classica quindi questa che è quella lavorata in maniera classica quindi aumento laterale aumento centrale quindi crea proprio un'angolazione con l'aumento centrale e un altro aumento laterale allora ve lo faccio vedere quindi così e questo è il proprio lo scialle granny classico quindi lavorato triangolare così con i bordi tritti quindi proprio la classica punta col disegno proprio granny che crea la punta al centro l'alternativa è questa che vi è piaciuta moltissimo su uno scialle fatto proprio ieri e quindi avendo i bordi frastagliati era molto carino questo questo tipo di scialle vedete molto molto carino però vedete che abbiamo il doppio angolo laterale e la lavorazione lineare al centro io voglio farvi vedere proprio la differenza tra i due tra i due scialle a me piace di più questo personalmente lo trovo più dinamico e non è il solito scialle granny questo classico vi faccio vedere sono otto giri quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 giri questo sono otto giri quindi 1 2 3 4 5 6 7 e 8 guardate la differenza rimane più piccolo questo rimane più piccolo in realtà rimane leggermente più largo ma di pochissimo però su un intero progetto allarga bene ma rimane più corto quindi vedete sembra quasi che abbia due giri meno questo io comunque preferisco questo ora vorrei farvi vedere come si fanno entrambi gli scialli granny ovviamente non vi farò un intero scialle granny ma vi farò vedere come si parte e come si procede per poter fare uno scialle granny in tutti e due i modi quindi farò vedere prima il modo classico quindi la partenza granny triangolare classica dopodiché vi farò vedere la partenza granny triangolare frastagliata quindi lavorata lineare al centro con gli aumenti doppi ai lati quindi con questo tutto vedete è proprio la particolarità di questo è proprio questa qui che è tutto seghettato io comunque nonostante sicuramente ci vogliono più giri per ottenere la stessa dimensione vado avanti a preferire questo perché è più dinamico io questo l'ho già fatto bello a suo fascino ma me piace di più questo quindi adesso insieme vi faccio vedere la partenza prima di quello classico partenza e come si prosegue e poi di quello frastagliato allora quindi scusate giriamo un pelo partiamo con quello classico quindi facciamo il nostro cappietto che sapete per me questo cappietto ecco qua faccio la prima catenella ed è il mio anellino magico quindi vado a fare dopo l'addellino magico una due tre catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più una catenella aggiuntiva di separazione dopodiché rientro nel nostro anellino magico in questo modo ecco qui e vado a fare tre maglie alte una due tre maglie alte due catenelle altre tre maglie alte una catenella di separazione e una maglia alta ecco qua tiriamo ecco qua la codina e abbiamo proprio questo quindi maglia alta con la catenella di separazione tre maglie alte due catenelle tre maglie alte catenella di separazione e una maglia alta quindi abbiamo fatto l'angolo più la predisposizione per l'aumento ora cosa facciamo quattro catenelle e giriamo il lavoro quattro catenelle perché tre sono la prima maglia alta una è la catenella di separazione che va a creare anche nel prossimo giro questo spazietto perché noi in questo spazietto andiamo a fare il primo aumento quindi carichiamo e facciamo tre maglie alte all'interno del primo spazietto perché voi come sapete il punto granny dove trovate uno spazietto vanno fatte le nostre tre maglie alte una catenella di separazione perché sui lati la catenella è una quindi carichiamo il filo nell'angolo centrale andiamo a fare tre maglie alte una due tre maglie alte due catenelle perché nell'angolo la catena le catenelle di separazione sono due a differenza del lato e di nuovo tre maglie alte una due tre una catenella ed entriamo vedete in questo spazietto dove abbiamo fatto le tre maglie alte con la catenella e la maglia alta finale quindi carichiamo entriamo in questo spazietto e facciamo tre maglie alte quindi una due tre una catenella di separazione e sulla terza catenella d'inizio andiamo a fare la nostra ultima maglia alta vedete inizia a vedersi il disegno granny quindi avremo sempre la prima maglia alta con una catenella 3 maglie alte catenella 2 maglie alte 2 catenelle nell'angolo 3 maglie alte catenella 3 maglie alte una catenella e una maglia alta per finire carichiamo di no cioè andiamo a fare di nuovo le nostre quattro catenelle sempre maglia alta e catenella di separazione carichiamo e vedete sempre nel primo spazietto quello tra la maglia alta del giro precedente e le tre maglie alte del giro precedente separate dalla catenella andiamo di nuovo a fare le nostre tre maglie alte quindi due e tre una catenella di separazione perché sui lati la catenella è sempre una per saltare il modulo da tre sottostante e di nuovo nel prossimo foro le nostre tre maglie alte quindi due e tre scusate i bambini di sottofondo una catenella di separazione andiamo a fare di nuovo l'angolo quindi tre maglie alte 2 e 32 catenelle di nuovo una catenella per saltare il modulo da tre sottostante nel prossimo foro di nuovo tre maglie alte 23 di nuovo una catenella di separazione di nuovo tra il modulo da tre e la maglia quella di inizio e di fine dove abbiamo fatto la catenella di separazione andiamo a fare tre maglie alte una due tre una catenella di separazione e di nuovo nel null nella terza maglia di inizio ecco qua la nostra ultima maglia alta il procedimento è sempre lo stesso ve lo faccio vedere ovviamente su quello più grande che è più facile si vede meglio partiamo sempre con una maglia alta e una catenella dopodiché tre maglie alte catenella tre maglie alte catenella e nell'angolo quindi in quello centrale sono tre maglie alte 2 catenelle e tre maglie alte per poi di scendere di nuovo con tre maglie alte catenella tre maglie alte catenella e finire sempre con tre maglie alte catenella e una maglia alta finale quindi sempre partiamo e finiamo con maglia alta e catenella perché produce praticamente il foro per fare l'aumento nel giro dopo e quindi ci serve sempre partire così questo è il granny classico ora vi faccio vedere quello alternativo quindi per il granny alternativo andiamo a fare sempre il nostro anellino magico quindi facciamo il cappietto e una catenella che useremo come anellino magico vedete dopodiché facciamo una due tre catenelle che è la nostra prima maglia alta carichiamo il filo entriamo nella prima catenella che noi usiamo come anellino magico e andiamo a fare una maglia alta e di nuovo nell'anellino andiamo a fare una terza maglia alta due catenelle di separazione vedete che la partenza è proprio totalmente diversa carichiamo andiamo a fare un altro modulo da tre quindi altre tre maglie alte 2 e 3 ecco qua due catenelle di separazione e di nuovo un modulo da 3 1 2 e 3 tiriamo la codina e questo è quello che ci ritroveremo 3 maglie alte 2 catenelle 2 catenelle 3 maglie alte tutte nell'anellino magico cosa andiamo a fare adesso procediamo in questo modo facciamo una catenella voltiamo il lavoro e camminiamo su ogni maglia alta con una maglia bassissima fino ad arrivare nel foro nel primo foro che ci troviamo quindi facciamo tre maglie bassissime e una maglia bassissima all'interno del foro in questo modo quindi andiamo a fare il classico angolo grenni tre catenelle per simulare la prima maglia alta altre due per concludere quindi altre due maglie alte scusate non due catenelle due maglie alte per concludere il blocco da tre quindi il primo modulo due catenelle e di nuovo nello stesso foro andiamo a fare altre tre maglie alte esattamente come faremo in come faremo in ogni angolo grenni di fatto abbiamo creato un angolo una catenella e andiamo a fare un altro angolo laterale quindi entriamo nel foro successivo che è l'unico foro che ci troviamo e noi andiamo a fare di nuovo tre maglie alte due catenelle e tre maglie alte ed ecco che abbiamo finito il secondo giro questo è quello che ci troviamo al termine del secondo giro scusatemi al termine del secondo giro non si vede bene perché c'è il sole avremo un angolo separato da una catenella e di nuovo un altro angolo quindi tre maglie alte due catenelle tre maglie alte nel foro sottostante una catenella che scavalca il modulo da tre sottostante di nuovo nel foro dove c'era l'angolo un altro angolo facciamo stessa cosa fatta in precedenza quindi una catenella o scusate avevo l'uncinetto al contrario una catenella voltiamo il lavoro e camminiamo quindi nelle maglie alte sottostanti in questo modo fino ad arrivare all'angolo con la maglia bassa quindi siamo all'interno dell'angolo facciamo di nuovo le nostre tre catenelle di partenza che sostituiscono la maglia alta e di nuovo due maglie alte per concludere il modulo da 32 catenelle e tre maglie alte il classico angolo gremi ecco qua ora cosa dobbiamo fare come in ogni lavorazione gremi la catenella per saltare il modulo sottostante ma ci ritroviamo un foro in più al centro quindi andiamo a fare semplicemente la lavorazione gremi in questo foro e quindi facciamo le tre maglie alte una catenella come sempre voi come detto prima nella lavorazione classica sui lati la catenella è una negli angoli sono due quindi andiamo a fare la catenella ed entriamo nel prossimo angolo e facciamo un angolo quindi tre maglie alte una due tre due catenelle e tre maglie alte scusate vado un po veloce ma effettivamente la lavorazione sempre la stessa e quindi ecco qua vedete si è allargato man mano andiamo ad allargare ve lo faccio vedere ancora una volta ma dobbiamo andare avanti semplicemente come fatto finora quindi di nuovo catenella voltiamo il lavoro camminiamo in ogni maglia alta sottostante con una maglia bassissima fino a ritrovarci all'interno dell'angolo dopodiché tre catenelle due maglie alte e alla fine abbiamo tre maglie alte perché le catenelle sostituiscono la maglia alta due catenelle tre maglie alte quindi classico angolo granny eccoci qua la catenella per saltare il modulo sottostante nel prossimo foro andiamo a fare tre maglie alte 1 2 3 catenella per saltare il modulo sottostante carichiamo prossimo foro tre maglie alte 2 3 catenella perché anche comunque quello dell'angolo è un modulo entriamo quindi carichiamo per fare la maglia alte andiamo a fare l'angolo sull'angolo quindi tre maglie alte sbagliato fatto una maglia alta un po strano ma fa niente 2 catenelle e tre maglie alte aspettate lo rifaccio perché ho già fatto una maglia alta che non è una maglia alta però allora siamo a una quindi faccio la seconda avevo tirato giù un occhiello in meno nella seconda e 32 catenelle e di nuovo tre maglie alte quindi andiamo a concludere il nostro angolo e il procedimento è sempre lo stesso quindi andiamo a fare scusate la luce non è proprio il massimo oggi allora l'angolo granny il lato granny l'angolo granny quindi tre maglie alte 2 catenelle tre maglie alte lungo la linea retta quindi non nell'angolo ma su linea retta lavoriamo sempre una catenella tra un modulo e l'altro e di nuovo lavoriamo l'angolo granny per voltare il lavoro una catenella camminiamo a maglie bassissime all'interno dell'angolo e ricominciamo il giro in questo modo andiamo avanti ad allargare fino ad ottenere la misura desiderata vedete che non non è difficile e non è una cosa tanto diversa nel senso che il punto granny si lavora nello stesso medesimo modo mentre qui comunque lo lavoriamo che sale in diagonale perché deve arrivare a una punta invece la differenza di questo è proprio questa parte il fatto che il dritto è al contrario quindi uno lo lavoriamo dove il centro è sul lato che poi diventa lungo mentre questo parte proprio dalla punta e la differenza è questa lavoriamo le diagonali per lavorare al centro la linea retta quindi è proprio un procedimento totalmente inverso quindi tutti e due hanno un procedimento che è uno l'inverso dell'altro vediamo adesso se riesco a scusate ho avvicinato troppo io faccio sempre casini con lo zoom allora aspettate un attimo ecco volevo semplicemente allontanare per farveli vedere è proprio questo che volevo farvi vedere mentre quello tradizionale parte questo è l'inizio si parte dall'angolo per allargare in questo modo quindi linea retta quello alternativo partiamo sempre dall'angolo ma allarghiamo gli angoli per lavorare in linea retta questo qua invece sale in diagonale avremo il punto granny in diagonale mentre qui troveremo al centro il punto granny lineare questa è la differenza tra i due se non che anche il bordino frastagliato il bordino dritto io spero di essere stata chiara perché a volte mi perdo un po ma spero di essere stata chiara mi scuso per i rumori sottofondo ma oggi le bambine non hanno voluto dormire quindi ahimè i rumori di sottofondo ci sono spero vi sia piaciuta questa spiegazione io ovviamente vi ho fatto vedere la partenza ma queste sono le basi per fare qualsiasi cosa lavorata in triangolo granny ma vengono degli scialli fantastici col punto granny proprio il classico scialle della nonna ecco questo è uno scialle un po alternativo della nonna ma un po alternativo devo dire che a me piace molto questo quindi io vi saluto vi do appuntamento sul mio gruppo facebook creando quello cefranci se avete domande potete farle sia qui sotto nei commenti che nel gruppo io vi mando un bacione ciao da lucia e al prossimo tutorial ciao ciao